Musica e scienza. Può esserci veramente un legame tra queste due realtà apparentemente così distanti fra loro? La risposta è sì e ne possiamo vedere qualcuno insieme. La prima band alla quale vorrei partire sono i Cure. I Cure sono Robert Smith e 1959 Blackpool. Questo signore, questo ragazzo, mette in piedi una band nel 1976. È un anno particolarmente caldo per l'Inghilterra e per la musica in generale. In particolare è il periodo del punk e poi subito dopo del post-punk, quindi band come Sex Pistole, Clash da una parte, Suxy and the Bench e Joy Division dall'arte. E in questo calderone ci sono appunto anche i Cure di Robert Smith. Esordiscono appunto nel 1976 e dopo vent'anni esatti, nel 1996, danno alle stampe un album intitolato Wild Mood Swings. Il 1996 è un album certamente meno significativo degli album di un tempo. Ormai la parabola artistica dei Cure parrebbe essere un po' in discesa. Però in realtà per chi si occupa di scienza c'è qualcosa di significativo ed è una canzone. Una canzone che si intitola Jupiter Crash. In questa canzone infatti si fa riferimento a un fenomeno astronomico e ci dà anche l'opportunità di tornare su un argomento non affrontato molto spesso. Ed è quello delle comete che non ruotano intorno al Sole, bensì ruotano intorno a dei giganti gassosi come per esempio Giove. Nel 1994 una particolare cometa, Shoemaker-Levy 9, probabilmente è stata catturata dal campo gravitazionale gioviano. Quindi una cometa quasi certamente derivante dalla nube di Oort, che è questa sorta di bacino, questa culla nella quale si annoverano tutte le grandi comete. E queste comete che percorrono costantemente un'orbita intorno al Sole. Ma appunto, traghettando, muovendosi nei dintorni di un gigante gassoso, con una potente attività gravitazionale, possono essere risucchiate. Ed ecco quindi quello che è accaduto a Shoemaker-Levy 9, probabilmente ha cambiato la sua rotta. Anziché percorrere il suo normale tragitto intorno al Sole, ha iniziato ad essere appunto cambiare rotta e muoversi intorno a Giove. E così facendo, probabilmente questo fenomeno è avvenuto intorno agli anni 70-80, è andato avanti per un po', finché il campo gravitazionale gioviano non ha avuto la meglio. Ed ecco che quindi nel 1994 questa cometa si schianta letteralmente su Giove. E dà luogo a una grande fenomeno, un grande fenomeno che batte la macchia rossa, che è quella macchia gigante, quella tempesta costante che c'è su Giove, più o meno a ridosso dell'equatore. Ebbene, questa è una cometa che si schianta alla velocità di 60 km al secondo a una temperatura di 24.000 Kelvin. E appunto ci offre un primo esempio ideale del connubio tra musica e scienza. David Bowie, 1947, Londra, quindi un altro grandissimo esempio di collegamento tra la scienza e la musica. David Bowie non ha bisogno di grandi presentazioni, sappiamo perfettamente chi è il Duca Bianco e che impatto abbia avuto sulla musica internazionale. Allora, al 1971 arriva questo disco che è Anki Dory, 1971, e comprende una canzone che il Daily Telegraph annovra al primo posto delle 100 più belle canzoni pop rock mai scritte nella storia dell'uomo. Ebbene, questa canzone è Life on Mars. Life on Mars è una delle canzoni più criptiche di David Bowie, dove praticamente si fa riferimento a un soggetto che non si capisce bene chi sia e cosa voglia. Lui più volte è tornato sull'argomento, lasciando un pochettino nebulosa la questione. Probabilmente il riferimento è a una ragazza che non ritrova se stessa o comunque non si ritrova nei panni di una ragazza tipica dell'epoca, quindi di tutti i vari fermenti che c'erano all'epoca non ci si ritrova. E tant'è vero che poi alla fine la canzone conclude con Life on Mars, con una sorta di speranza, come dire ci sarà almeno vita su Marte, cosicché la speranza è che possano cambiare le cose. Ebbene, questo è uno spunto che comunque mette in relazione comunque ancora una volta musica e scienza. A questo punto ci si può effettivamente chiedere se già allora negli anni 70 ci si domandava c'è vita su Marte, ebbene sono passati praticamente 50 anni e siamo ancora a chiederci se c'è vita su Marte. La differenza però rispetto agli anni 70 è che oggi abbiamo delle considerazioni in più da fare, in particolare all'indomani delle storiche conquiste effettuate da Curiosity Opportunity, due robottini della NASA che ci hanno dato tantissime informazioni. Allora, questa è una notizia veramente dell'altro giorno, risale al 2017, dove grazie alle analisi di dati raccolti da robottini della NASA attraverso uno studio tedesco, sono state messe in luce delle nuove molecole che sono state scoperte su Marte, che sono i teofeni. I teofeni sono delle molecole particolari che conosciamo anche sulla Terra, si trovano nel petrolio, nelle stromatoliti e nel carbone. Ebbene, queste sono delle molecole a base di carbonio, di zolfo e di idrogeno, e sembrerebbe che queste possono essere legate all'attività organica, in particolare di micro-micro-organismi che sono dei solfobatteri. Quindi il discorso verrebbe ricondotto a un processo di diagenesi, ossia tutti quei processi anche di natura petrografica che riguardano bene o male i suoli di qualunque superficie solida. Probabilmente questo processo di diagenesi porterebbe alla formazione di H2S, ovvero acido solfidrico, che potrebbe reagire con molecole organiche per dare origine appunto al teofene. Quindi possiamo considerare il teofene come una sorta di biomarcatore. Dunque, grazie, comunque riascoltando David Bowie con Live on Mars, oggi abbiamo una certezza in più per credere che probabilmente una forma di vita batterica primordiale su Marte possa effettivamente esserci. E poi abbiamo Kate Bush, che ci offre un altro bel esempio di relazione tra la musica e la scienza. Kate Bush è del 1958 e nasce nei dintorni di Londra, a Welling, e nel 1978 è il suo debutto. Il suo debutto è che avviene grazie all'appoggio di un particolare carismatico signore che è niente meno che David Gilmour. David Gilmour ormai è diventato una delle figure più significative dei Pink Floyd dopo l'abbandono definitivo da parte di Sid Barrett per tutti i suoi problemi. Appunto, questo David Gilmour accompagna l'esodio di Kate Bush. Kate Bush nel 1985 dà alle stampi un album intitolato Hounds of Love e comprende una canzone intitolata Cloud Busting ed è una particolare canzone che fa riferimento a uno scienziato controverso e mai accettato dalla scienza ufficiale che è William Reich. William Reich era niente meno che un discepolo di Freud dal quale poi dopo si è staccato progressivamente e aveva delle teorie piuttosto contradditorie e davvero difficili da accettare. Quindi lui mischiava tranquillamente la psichiatria con la sessualità, il marxismo e la psicanalisi. Insomma, metteva un po' tutto insieme e naturalmente in questo grande darsi da fare non si è dimenticato anche di un'ipotesi, cioè di poter inventare qualcosa che potesse creare la pioggia dal nulla e così riuscire a risolvere una delle più grandi problematiche che riguarda tutto il mondo ed è la crisi legata alla siccità, la crisi idrica. Secondo William Reich esiste una particolare particella che permia tutto l'universo, che permia le specie viventi e la natura che ci circonda e si chiama orgone. Da orgone poi deriva il concetto di energia organica. Quindi attraverso l'applicazione di un suo martingegno dotato di tubi di rame, William Reich tenta di poter appunto creare dal nulla le nuvole. Naturalmente questo punta a sovvertire le normali basi dell'energia potenziale, quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona, lui ritiene di essere riuscito a far piovere, ma naturalmente nessuno scienziato gli dà corda. In ogni caso, grazie a questa canzone di Kate Bush, ritorna in auge e comunque si può parlare di un discorso ancora oggi sul quale si lavora, cioè veramente poter ottenere l'acqua laddove le condizioni climatiche non lo consentono. Australiano del 1957, Nick Cave, propone invece una canzone che è X Boson Blues. Il riferimento naturalmente non può che essere alla fantomatica particella, il bosone di X. Allora, siamo nel 2013 e Nick Cave dà le stampe questo disco intitolato Push the Sky Away. Appunto, all'interno c'è questa canzone, che è analogamente a quel che dicevamo prima di Life on Mars di David Bowie, anche in questo caso la canzone è piuttosto criptica. Il soggetto parrebbe essere lo stesso Nick Cave che dice sto guidando verso Ginevra e sappiamo che a Ginevra c'è il CERN, l'acceleratore di particelle, entro il quale si conducono tutta una serie di esperimenti per identificare l'infinitamente piccolo e dove appunto è stato identificato nel 2012 il bosone di X. Quindi Nick Cave percorre questa strada fantomatica e immaginaria, incontra Robert Jones sul suo cammino, fa riferimento all'assassino di Martin Luther King. Non si sa bene cosa c'entra il bosone di X, ma certamente ci dà l'opportunità di tornare su questa argomentazione che non smette mai di stupire e di interessare. Che cos'è il bosone di X? È veramente un po' complicato da spiegare, però in ogni caso lo si può fare andando indietro nel tempo, cioè subito dopo all'evento del Big Bang. Allora in questa fase si può pensare che le particelle non possedevano una massa, per esempio gli elettroni, per esempio i quark, ma così come i fotoni ancora oggi sappiamo non possiedono massa ma solamente energia. Ebbene che accadde è che queste particelle poi scontrandosi con questa sorta di melassa, questa sorta di substrato che permea l'intero cosmo, piano piano finiscono per impattare con esso e di conseguenza quindi assumere una massa, cosa che invece non accade con il fotone che continua tranquillamente per la sua strada. Dunque, negli acceleratori di particelle si è proprio indagato questo mistero, quindi eccitando la materia si riesce a ottenere questo bosone di X che poi si è visto è in grado di decadere in fotoni oppure in elettroni e quindi giustifica la grande scoperta avvenuta decenni fa da Peter X che poi ha vinto anche il premio Nobel e che ci permette effettivamente di osservare da vicino l'infinitamente piccolo questa particella fantomatica che sarebbe indispensabile a tenere insieme tutti i cocci dell'universo e che probabilmente sarà necessaria per poi descrivere, quando mai si riuscirà a descrivere completamente, tutte le particelle che convergono per costituire il cosmo nel quale noi siamo cari. Siamo così giunti all'ultimo esempio che ci permette di mettere in relazione la musica con la scienza. In questo caso ha un duo che è un duo new yorkese, quindi di New York statunitense che sono dei My Bee Giants. Sono questi due ragazzi, John Linnell e John Flansburg che si incontrano all'università. Siamo negli anni Ottanta. Danno alle stampe il loro primo disco omonimo dei My Bee Giants nel 1986 e diventano in fretta un punto di riferimento per i vari college statunitensi e per le varie università dove vengono ascoltati con grande frequenza. Il loro alternative rock mischiato di un pop particolarmente orecchiabile fa presto breccia nei ragazzi degli anni Ottanta. Loro si occupano spesso di scienza e addirittura nel 2009 danno alle stampe esordiscono con un album intitolato Here Comes the Science ed è un album incentrato interamente sulla scienza. All'interno di questo album vorrei citare almeno una canzone che è I'm Paleontologist fa riferimento quindi a una serie di animali del passato e anche alla possibilità di influenzare le nuove generazioni spingendola appunto a diventare paleontologi. Non è un caso che la canzone sia stata scritta dal bassista dei My Bee Giants e nella canzone partecipano anche i due figli del bassista. Uno degli animali che viene citato è uno degli animali più interessanti della paleontologia che è l'archeopteryx. L'archeopteryx ci interessa in particolare modo perché risulta essere uno straordinario di un anello di congiunzione tra il mondo dei retti, il mondo rettiliano, e quello degli uccelli. Quindi quando possiamo indicare a livello cronologico la situazione siamo nel Giurassico quindi 150-148 milioni di anni fa viene identificato appunto viveva appunto questo animale che è l'archeopteryx che presenta delle caratteristiche spiccatamente vicine al mondo rettiliano ma d'altra parte inizia ad assumere anche tutta una serie di sembianze che ricordano effettivamente gli uccelli. Quindi sicuramente di rettiliano mantengono la presenza dei denti all'interno del becco sappiamo che oggi gli uccelli non possiedono denti quindi un aspetto tipico dei dinosauri e anche una lunga coda che probabilmente serviva per dargli meglio l'equilibrio e certamente ricorda l'anatomia e la fisiologia dei grandi, dei giganti dinosauri. Però dall'altra parte vediamo che inizia ad assumere delle sembianze differenti perché inizia ad avere delle ossa più leggere quindi ossa più leggere che evidentemente facilitano il volo anche la scatola cranica risulta essere più ridimensionata e poi soprattutto possiedono le penne, le piume quindi delle strutture che servono a dare calore e soprattutto servono a volare. Era un piccolo animale quindi ascrivibile più o meno assimilabile a un corvo e certamente è stato ritenuto per tanto tempo l'animale l'uccello più vecchio mai conosciuto. Ora invece le ultime analisi paleontologiche in realtà lo scalzano perché evidentemente recentemente sono state fatte le nuove scoperte che indicano degli uccelli ancora più primitivi però indubbiamente il simbolo dell'immaginario collettivo del passaggio dal mondo rettiliano a quello degli uccelli è senza dubbio e rimarrà senza dubbio l'Archeopteryx che ci riporta ci permette di riparlarne anche canticchiando questa canzone molto orecchiabile dei MIGHT BE GIANTS